Una donna in gamba, buona altruista, chiamava il suo lavoro con i piccoli meno fortunati. Ha usato queste parole il pastore Massimiliano Borrelli per ricordare Antonella Favale, la donna di 31 anni, unica vittima del crollo di una palazzina di tre piani in Vicopiave, nel centro storico di Matera. E lo ha fatto nel corso dei funerali celebrati nella Mediateca provinciale della città con il rito dei testimoni di Geova. Il pastore ha ricordato che Antonella si era avvicinata a una quindicina di anni fa ai testimoni di Geova. Oggi non è il giorno del dolore, ha detto, ma è il giorno della speranza. Viviamo bene ogni secondo della nostra vita, così come ha fatto nei suoi 31 anni Antonella. Intorno alla famiglia Favale si sono stretti gli amici, i ragazzi del centro di urno per disabili, dove Antonella lavorava come assistente, con tanto amore e attenzione verso i ragazzi, ma anche numerose autorità, tra cui il viceministro dell'Interno, Filippo Pubico, il sindaco Salvatore e a Duce, il presidente della provincia Franco Stella. Da Potenza sono arrivati il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella e altri consiglieri regionali. La Salma è stata poi seppellita a Policoro, città dove Antonella è nata e ha vissuto prima di trasferirsi a Matera, dove si era sposata.